Prezzo biglietto troppo caro, lo striscione dei tifosi Bayern contro il PSG è virale sui social. Parigi, Francia, non siamo ancora Neymar. Questo è il messaggio ironico lanciato attraverso uno striscione esposto al parco dei principi dai tifosi del Bayern Monaco durante l'andata degli ottavi di Champions League. Che ha visto i bavaresi imporsi di misura sul Paris Saint-Germain. Il precedente nel mirino dei sostenitori tedeschi il prezzo del biglietto. Ritenuto troppo caro, 70 euro? Non siamo ancora Neymar 20 euro sono sufficienti. FPSG è il testo che si legge in un'immagine ben presto divenuta virale sui social. Dove c'è chi ha notato un precedente? Il 27 settembre 2017 infatti, sempre a Parigi in occasione di una sfida di Champions contro il PSG, che quella volta vinse 3-0 con gol di Dani Alves. Cavani è proprio Neymar. I tifosi del Bayern esposero uno striscione quasi identico, 75 euro a biglietto. Non siamo Neymar. I prezzi devono essere ragionevoli. Cinque anni e mezzo dopo dunque un calo di 5 euro. Uno sconto che evidentemente non accontenta i sostenitori bavaresi. Virgola. Una sconto che non accontenta i sostenitori bavaresi. Un'altra sconto che non accontenta i sostenitori bavaresi. Un'altra sconto che non accontenta i sostenitori bavaresi.